Parleremo di come gestire i patrimoni in condizioni di incertezza e di discontinuità. Abbiamo visto, è stato tracciato, un po' definito il momento storico che stiamo attraversando e in questo momento di grande incertezza, ovviamente chi ha dei patrimoni da gestire, si trova un po' disorientato e quindi cerchiamo un po' di dare la bussola e di capire come ci si può orientare. Io invito il moderatore del prossimo incontro che è Nicola Saldutti, il caporedattore del Corriere della Sera. Benvenuto. Ciao. Buona giornata. Allora, abbiamo sentito l'intervento di Segre, è un argomento che interessa a tutti, interesserà anche le donne ovviamente, perché quando si ha un patrimonio si vive in un periodo particolarmente ricco di imprevisti, complicato come quello che stiamo vivendo, uno si sente un po' disorientato e non sa magari anche a chi affidarsi e cosa fare. Assolutamente. La passione che ci ha messo la dottoressa Segre dice di quanto sia centrale, perché è un elemento non solo economico, ma di cittadinanza. Ah sì. Anche il tema dei patrimoni, ci sono tanti ragazzi e ragazze, le quali penseranno, vabbè ma io un patrimonio non ce l'ho. Il punto è come costruire il proprio futuro attraverso la cittadinanza economica. Sapere che alcune cose, se non le sai, qualcuno approfitterà di te. Certo. O con la violenza, quello che ci diceva prima dottoressa Segre, o semplicemente non facendoti cogliere le opportunità che hai. E noi vogliamo essere sempre pronti a tutto e quindi adesso vi lascio al prossimo incontro. Invito subito i relatori, a partire da Paolo Ramondetti, condirettore generale di FICTET Wealth Management Italia. Benvenuto. Ma prego di accomodarsi dove vuole. Giuseppe Patara, senior portfolio manager di FICTET. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Alessandro De Nicola, senior partner Orrick Errington e Statcliffe. Benvenuto. E Massimo Scolari, presidente di Ascofi. Anche a lei. Buon lavoro. Prego, accomodatevi. Grazie. Allora, comincerei da una cosa, perché il titolo del nostro panel è gestire patrimonio in condizioni di incertezza e discontinuità frequenti. Io la parola incertezza la declinerei al plurale, per quello che abbiamo sentito anche stamattina, le analisi che hanno fatto gli economisti e le incertezze sono tante sui mercati finanziari, sulla crescita, sugli investimenti, sull'innovazione tecnologica. E però focalizziamoci sui patrimoni o sul risparmio, che significa patrimoni di varie dimensioni. Comincio da Ramondetti. Se uno mette sulla linea la storia dei mercati finanziari, recente, 1929, crack, 1987, crack. Quindi ce ne sono state tante di situazioni complesse, da cui poi ci si è ripresi. Tant'è vero che se uno guarda la curva dell'andamento delle azioni, nel lungo termine, hanno sempre offerto tanto. Perché questa cosa che è così logica, quando ci sono le situazioni di incertezza, si perde di vista e ci si fa prendere dal panico? Vero, verissimo. Forse la spiegazione più logica che mi viene in mente è che l'incertezza è diventata una certezza. Quindi, se è vero che nell'ultimo secolo, da quando registriamo questi eventi, le crisi sono sempre esistite e con le crisi l'emotività delle società, degli investitori, dei mercati, è altrettanto vero che con la frequenza degli ultimi anni non si verificava. Non si verificava perché il mondo era meno interconnesso e la velocità con cui gli eventi si influenzavano da una parte all'altra del mondo era assolutamente minore. Quindi, negli ultimi vent'anni noi abbiamo assistito a un'accelerazione di certi eventi. sono degli eventi che influenzano i comportamenti delle persone, influenzano il flusso mediatico, ma non necessariamente hanno modificato, anzi, non hanno per niente modificato, le tendenze di lungo periodo per i mercati finanziari, di conseguenza per le scelte fondamentali dei risparmiatori, che devono essere scelte di lungo termine. Questo è importante ricordarlo, perché siamo tutti un po' vittime di una polarizzazione delle informazioni. L'abbiamo visto in modo molto chiaro negli ultimi anni, dal Covid in avanti, quando un evento diventa l'evento unico di cui ci informiamo, vuol dire che in quel momento siamo un po' intrappolati in un eccesso di emotività, che ha delle conseguenze per gli investimenti. E Cecchini ha fatto un lavoro, studiare l'emotività degli investitori e dei mercati, la finanza comportamentale. La cosa curiosa è che, parlando della crisi del 29, i grandi economisti del passato lo sapevano che l'emotività esiste e che gli investitori devono fare attenzione all'emotività, perché bisogna avere un quadro di razionalità e di strategia in quello che facciamo. Poi ce lo siamo dimenticati. Se grandi nomi come Keynes o Schumpeter lo sapevano che l'emotività conta, poi negli anni 80-90 abbiamo iniziato a mettere questa ipotesi di uomo razionale, che però non esiste. E lo stiamo riscoprendo. Allora, per l'investitore, questo aspetto dell'emotività è la chiave. È la chiave degli errori da non fare. E credetemi, succede a tutti, succede a chiunque debba gestire il proprio patrimonio, perché è troppo forte l'influenza che riceviamo. Vi faccio qualche esempio. La crisi del Covid. La crisi del Covid è stato un sentimento di non ci sarà più futuro. In realtà il mondo ha reagito velocissimamente da un punto di vista finanziario. Al giro di qualche mese una soluzione creativa era stata trovata, qualcosa di nuovo, per dare ai mercati un respiro di liquidità che ha rimesso in ordine gli elementi. E non ci sono voluti tantissimi mesi. È successo abbastanza in fretta. Quindi ci dimentichiamo spesso che il mondo poi si rimette sui binari e come investitori l'errore più grande che possiamo fare è di farci prendere dall'emotività. I bias cognitivi sono probabilmente i nostri più grandi nemici. Laddove il bias cognitivo significa che ho avuto un'esperienza di un certo tipo e sono convinto che di fronte a un nuovo evento si ripeterà quello che ho visto nel passato. Ecco, questo non succede mai, perlomeno non nello stesso modo. Quindi bisogna fare estremamente attenzione a reagire di intuito. L'intuito come investitori è un po' una trappola. La seconda osservazione sono i cosiddetti coni d'ombra, cioè quando analizziamo i problemi e non riusciamo a vederne tutti gli aspetti. Qual è l'antidoto, cercando di stare nei tempi? L'antidoto sta nel partire con degli obiettivi. Un investitore non può investire come una stratificazione di singoli investimenti. Partire con degli obiettivi, partire con una strategia, guardare alle variabili che impattano veramente i nostri patrimoni di lungo termine, che sono l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto della moneta, la svalutazione. e poi in qualche modo farci aiutare, perché mantenere la razionalità e definire correttamente un piano strategico richiede delle professionalità. Qualcuno ce le ha, non tutti ce le abbiamo, non tutti abbiamo il tempo, non tutti abbiamo gli strumenti per farlo, quindi è fondamentale. Un'ultimissima cosa, non è tanto la conoscenza finanziaria che manca, è veramente il mantenere l'equilibrio tra emotività e razionalità. Le conoscenze finanziarie, io faccio questo mestiere da quasi 25 anni, le ho viste crescere notevolmente, e non è vero che l'Italia ha un ritardo rispetto ai grandi paesi europei. Come gruppo PicTè siamo alla terza edizione, abbiamo da poco comunicato di un lavoro di osservatorio sul comportamento degli investitori in Europa, si chiama Edufin, e confrontiamo i grandi paesi. Quindi partiamo dal Regno Unito, che ovviamente è un paese più avanzato in materia finanziaria, come livello di educazione, ma se ci confrontiamo con Francia e Germania, l'investitore italiano è assolutamente paragonabile, non c'è un ritardo rispetto all'Europa. Grazie, anche perché di solito si dice che l'Italia è sempre più indietro, dallo spread al riciclo, invece poi se si guardano i numeri e i comportamenti si scopre che invece le posizioni e l'evoluzione del paese è molto più avanti di quello che si immagina. A proposito di quello che diceva prima, sull'incrocio tra emotività e numeri, gli ultimi premi Nobel per l'economia sono stati assegnati a economisti psicologi, cioè che hanno studiato come i comportamenti agiscono sulle scelte delle persone. E c'è una cosa pratica, ad esempio, quando uno guarda un grafico, provate a fare questo esperimento, quando guardate un grafico e vedete che quella linea segna un rialzo di una quotazione, istintivamente penserete che non può che continuare a salire. O viceversa, fatelo questo esperimento, un grafico che dà una linea che scende a rotta di collo, voi penserete che domani sarà così. È quello che accade spesso sui mercati. Nel 2011, l'anno della grande difficoltà per il nostro debito, tutti buttavano via i titoli di Stato perché pensavano che fosse finito l'euro. Chi invece ha avuto la capacità di dire, vabbè, ma l'Italia è un paese che si dissolverà, no, ha guadagnato tanto denaro per i titoli di Stato e per le azioni. Perciò questa combinazione impossibile tra emotività e numeri è una combinazione con la quale tutti noi dovremmo convivere e soprattutto voi ragazzi e ragazze. Vado da Massimo Scolari, che poi di recente ha pubblicato anche un libro, La nuova consulenza finanziaria, presidente di Ascofind. Ecco, diceva Ramondetti che l'Italia è messa meglio di quanto pensa sulle sue competenze finanziarie e però volevo chiederle questo, sui consigli, no? Io lo dico da cronista, quando ci sono le grandi turbulenze finanziarie, poi si scopre che le persone sono convinte di essere in grado di conoscere i mercati o di conoscere l'investimento che le renderà ricche. Il mito di Remida non è mai scomparso, l'idea di fare, trasformare tutto in oro. E invece ragionare con chi può consigliarti. Però la fiducia è un elemento complicato di questi tempi. E la fiducia va conquistata e va mantenuta nel tempo. Certamente, grazie alla domanda, saluto tutti naturalmente, grazie di essere stato invitato. Direi che le conoscenze sono molto importanti, come diceva anche il collega. È ancora più importante sapere applicare le conoscenze, sapere gestire bene il proprio bagaglio di conoscenze e applicarlo nel modo giusto. Nelle rilevazioni internazionali sul grado di educazione finanziaria, l'Italia a volte è un po' arretrata rispetto agli altri paesi, ma se si guarda il contenuto delle rilevazioni, non è arretrata per il livello di conoscenze, ma per il livello dei comportamenti. È sui comportamenti che è maggiormente necessario acquisire esperienza e acquisire anche la capacità di utilizzare i consigli che provengono non solo da chi fa il lavoro di consulente finanziario, ma anche dai media di qualità, qui abbiamo quello principale italiano, dalla rete bisogna sfruttare questo bagaglio di informazioni e di conoscenze per poi farsi delle opinioni personali. Dico sempre, è meglio sbagliare con la propria testa che avere ragione con la testa degli altri, perché dagli sbagli, infatti, con un proprio ragionamento si impara. E proprio questo è il tema, secondo me, fondamentale. È il tema della conoscenza dei mercati finanziari, degli investimenti, del risparmio, come gestire il risparmio, come utilizzare al meglio il bagaglio enorme di informazioni che oggi qualunque persona ha a disposizione tramite la rete internet, i giornali specializzati, i giornali che sono pubblicati anche a livello, diciamo, generale, e anche i professionisti della finanza, che devono saper spiegare le cose. Mi ricordo una mia amica, mi disse, ho ereditato un po' di un capitale e quindi devo scegliere la banca con cui lavorare, eccetera. Gli ho detto, ma guarda, forse ti conviene qualcuna che sia più comoda per te, insomma, no? Gli ho detto, no, no, io ho scelto, era di Milano, ho scelto una banca di Trento. Gli ho detto, ma come mai, perché Trento non è, o hai una casa in montagna che vai lì. No, no, ho scelto questa perché in quella banca c'è un ragazzo che gestisce i miei soldi, però ogni volta che fa qualcosa me lo spiega e io capisco. E quindi capendo posso anche avere più fiducia in lui. E anche se ci sono degli sbagli, perché nessuno è perfetto, quando si fanno degli investimenti si può avere ragione, si può sbagliare, però l'importante è capire le motivazioni sottostanti agli investimenti, quali sono gli obiettivi che assegniamo a questi investimenti e questo naturalmente ci porta a una maggiore stabilità e quindi alla ricerca degli investimenti di lungo termine che poi sono quelli più redditizi. Grazie, si può anche applaudire. Nel teatro mi pare che non ci sia un divieto. Mentre lei stava parlando mi venivano in mente alcune cose. Primo, pensavo sempre ai ragazzi e alle ragazze che ci sono, e poi dico, vabbè, ma io un patrimonio non ce l'ho. Perché mi state spiegando come funziona? Perché per esempio l'elemento futuro, che è l'argomento di questi tre giorni, riguarda proprio questo. Se uno incomincia a risparmiare adesso, c'è la famosa giornata del 31 ottobre, che è la giornata del risparmio, il tempo è un alleato incredibile. anche con somme molto piccole. Lo dico perché tra gli altri primati che ha il nostro paese, ha il primato del debito, diciamo. Che significa poi anche cose positive, perché quel debito ha consentito di costruire questo paese, con esagerazioni, ma ha il primato del risparmiare. risparmiare significa, per esempio, consentire alle imprese di investire. Perché poi stiamo parlando di finanza, ma la finanza in gran parte serve perché poi quelle risorse consentono alle aziende di sviluppare futuro. E allora se uno prima comincia a investire, nel lungo termine, diceva qualcuno, siamo tutti morti, però intanto se uno comincia, nel lungo termine, quel capitale cresce. C'era Albert Einstein che diceva che l'interesse composto è una delle meraviglie del mondo. L'ottava meraviglia del mondo. Perché far coltivare i propri risparmi. Vado dall'avvocato De Nicola. È l'incertezza, no? Con lei volevo affrontare un tema, per esempio, che riguarda le regole. In questi anni si sono fatti grandissimi passi avanti, per esempio sulla trasparenza. Però i mercati hanno bisogno di regole stabili. Quando cambiano troppo rapidamente, gli investitori sono un po' disorientati, perché una cosa che era vantaggiosa prima, lo è meno dopo, era meno rischiosa prima. Io, se vi capiterà di leggere un prospetto informativo, quando le società vengono quotate, le prime 50 pagine sono c'è il rischio di questo, c'è il rischio di questo, c'è il rischio di questo, c'è il rischio di questo. Negli anni 90 non era così. Cioè, è quasi dire non investire. C'è il rischio, una cosa con la quale bisogna abituarsi a convivere, misurarlo, ed è la differenza tra... Sto parlando troppo da moderatore, lo so, però incertezza e rischio. L'incertezza è una situazione, il rischio è qualcosa che puoi non azzerare, ma che puoi fortemente ridurre. Quando qualcuno propone qualcosa a rischio zero, voi scappate. Quando qualcuno dice, fallo che questo non ha rischio, dice, no, vado a Trento, da quel signore di cui parlava. Prego. Bene, grazie. Già la seconda volta che vengo al Teatro di Storia è sempre per eventi che hanno a che fare con i ragazzi. D'altro era un anno fa con Enactus, che è una splendida organizzazione che pone team di università di tutto il mondo in competizione per dei progetti ed era proprio qui al Teatro di Storia. e quindi si vede che è il teatro per le giovani generazioni. Vabbè, quindi io direi, come regola d'oro dell'investimento o di come ci si approccia a tutto il complesso di regolamentazione normativa che sta intorno agli investimenti, quindi la prima regola è dotarsi sempre di un avvocato. Questa è la cosa. Consiglio, senza alcun conflitto di interesse, ovviamente. Quindi iscrivetevi a giurisprudenza. No, no, ci sono pure troppi lavorati in giurisprudenza in Italia. Molto vero quello che diceva prima il nostro moderatore Nicola Saldutti sul fatto che le regole nei mercati finanziari servono, però ci sono due rischi e i rischi sono non solo il cambiamento continuo ma l'iperregolamentazione. Ci sono alcuni settori dell'operatività, dell'attività nei mercati finanziari che sono iperregolati e in più sono iperregolati da diversi, chiamiamoli così, legislatori, perché oggi si intersecano, i ragazzi che fanno l'università magari hanno studiato all'esame di diritto, si intersecono le norme dell'Unione Europea, le norme nazionali, i regolamenti delle autorità di vigilanza, voi sapete che ci sono alcune autorità di vigilanza dei mercati, una serie che è la Consob per i mercati finanziari, la Banca d'Italia per le banche e così via, oltre a tutta una serie di codici di autoregolamentazione che servono un po' per dare a chi opera nel mercato una serie di principi comportamentali. Tutto questo è molta roba, tant'è che le funzioni che si occupano di questo tipo di aspetti che nelle aziende bancarie, finanziarie, assicurative vengono chiamate come compliance, la compliance è quella funzione che si assicura che ci sia una conformità alla legge da parte della società, l'internal audit, l'internal audit, verrete in contatto con queste parole prima o poi, comunque sono quelli che fanno la revisione interna dei processi all'interno della società per vedere che vadano bene, il responsabile degli affari legali, nei consigli di amministrazione è pieno di comitati, di sottocomitati che si occupano dei rischi e così via. Quindi c'è un complesso che è diventato anche molto costoso. Vent'anni fa PICTE penso che spendesse la metà di quello che spende ora in compliance, audit, affari legali e così via. Questo è necessario o non è necessario? C'è una reazione in certi casi esagerata rispetto anche a fenomeni che ci sono stati? C'è stata una crisi nel 2007-2008 anche perché la regolamentazione era inadeguata o non era applicata in modo adeguato. Naturalmente ci sono pareri molto diversi, ci sono pareri molti diversi, alcuni dicono che c'è un'iperregolamentazione e quando c'è un'iperregolamentazione c'è il rischio che chi deve assicurarsi che la regolamentazione sia seguita poi faccia semplicemente il controllino, si dice tick the box, ho dieci cose da vedere, vedo se vanno bene in modo un po' come dire precostituito, non diciamo ottuso, ma precostituito e poi ci si fa sfuggire cose molto più gravi. Altri dicono che invece fosse necessario. I due tre spunti che vi do senza eccedere il mio tempo sono due tre spunti che vi fanno capire come però certe volte la normativa cambia perché si adegua ai tempi e si adegua anche a problematiche che sono molto importanti per i giovani. Ad esempio per quello che riguarda i mercati finanziari una normativa in evoluzione molto importante è quella che riguarda i parametri cosiddetti ISG, cosa sono i parametri ISG? Mi scuso con tutti quelli che già lo sanno a memoria però meglio non dare niente per scontato. I parametri ISG sono i parametri cosiddetti environmental quindi dell'ambiente social and governance. Allora questi parametri adesso sono stati normati soprattutto dall'Unione Europea sotto due profili. Il primo profilo è capire quali sono quindi c'è un regolamento detto tassonomia che dice i parametri si hanno quando le attività di investimento non fanno gravi danni all'ambiente o promuovono delle politiche ambientali. E c'è stata molta discussione magari avete sentito il fatto che c'è stata una grande discussione se includere il nucleare tra queste attività che non fanno grandi danni e però aiutano l'ambiente perché non hanno emissioni. Quindi la prima cosa è cercare di capire quali sono questi investimenti. La seconda cosa e finisco che però è quella importante anche per gli aspetti di cui avete parlato voi del fatto che non esiste l'investitore razionale homo economicus perfetto ma ci sono anche degli aspetti valoriali è il fatto che adesso si debba informare bene chi investe su e questo è una cosa che il wealth management fa se gli investimenti hanno una diciamo l'impatto ambientale dei propri investimenti ve la metto in modo semplificato anche se naturalmente se leggete il tutto è molto più complicato che così questo dà la possibilità anche nell'intenzione del legislatore di poter dare un contenuto anche valoriale al proprio investimento e quindi orientarsi poi ovviamente chi vi fa investire in questi prodotti ambientali vi dirà che il rendimento non è inferiore a quello dei prodotti non ambientali anche qui ci sono pareri diversi però dà la possibilità anche nell'investimento del proprio patrimonio di rappresentare i propri valori poi è chiaro che si fluttua un po' perché ad esempio tra le aree che non sono considerate come rientranti in questi anzi sono considerate come aree un po' da scartare ci sono per esempio l'industria della difesa questa cosa è un diciamo ha avuto qualche scossone perché dopo l'invasione dell'Ucraina si è capito che l'industria della difesa serve anche per difendere gli ucraini dei russi quindi forse non è scontato che l'industria della difesa sia una di quell'industria dove chi è cosciente e vuole il bene dell'umanità non debba investire quindi è chiaro non c'è niente di stabilito però è chiara qui al 32 finisco la la direzione cioè il legislatore prende atto che nella società moderna la scelta di investimento è data anche dai propri valori e quindi cerca di regolarli e perciò c'è sempre nuova regolamentazione grazie a proposito del tema delle regole è un tempo in cui tutti sono un po' insofferenti alla regola e in realtà per i mercati finanziari le regole quando non sono troppe o esagerate hanno contribuito ad una selezione tra chi era in grado di fare determinate cose e chi non era in grado di farle a tutelare meglio le persone quindi questo è un aspetto dell'altro a proposito degli investimenti in sostenibilità mentre lei stava parlando prima semplicemente non esistevano perché i mercati seguono a proposito di emozioni e di valori è quello che le persone cercano o le imprese cercano in questa fase l'idea di raccogliere del denaro perché quell'impresa possa risparmiare acqua o energia è una cosa a cui si attribuisce valore prima no quindi vedete come i mercati finanziari vi riguardano e ci riguardano molto più di quello che sembra adesso forse il segreto è riuscire a far sì che gli investimenti sostenibili siano sempre anche più convenienti cioè la loro redditività sia più alta perché poi alla fine quella decisione redditività rischio è una decisione che resta al centro arrivo da Giuseppe Patara Senior Portofoglio Manager di PICT la situazione dei mercati adesso qual è? dunque visto che parliamo e abbiamo parlato di emotività in tanti aspetti emotività personale dell'investitore l'emotività che ci porta a rivolgersi in un modo nell'altro da un consulente l'emotività che ci porta magari a fare delle selezioni in quello che vogliamo investire secondo dei criteri che non siano puramente finanziari perché scegliere che è di sostenibilità può essere qualcosa di naturalmente finanziario quello che posso portare come testimone come operatore diretto di chi invece questa motività propria e dei mercati è costritto a doverla digerire e interpretare su base quotidiana quindi qual è la situazione oggi è un po' il trade union di tutte le giornate di chi come me fa l'operatore sui mercati finanziari qual è la situazione oggi la situazione oggi è di un moderato ottimismo devo dire questa è un po' la situazione l'incertezza nel breve nel meglio c'è sempre mi riferisco anche al panel che ci ha anticipato anzi due panel prima del nostro sul fatto che spesso le attese degli anni successivi si riferivano in particolare alla crescita economica sono disattese nel senso che sono sempre attese eccessivamente pessimiste questo è un tipico bias comportamentale la interrompo su questo le previsioni ci dicevano prima si fanno sono previsioni poi uno fa una previsione per il 23 24 25 poi va a vedere nel 24 e scopre che quello che aveva previsto era troppo negativo questo sta dicendo quindi quando si guardano i dati bisogna guardarli con attenzione ma anche con un sereno distacco quello che un investitore che man mano che poi affina la propria esperienza anche come investitore personale come risparmiatore come investitore più in generale è quello di avere per così dire una mappa in testa un'idea una destinazione di dove l'investimento deve andare di qual è la destinazione finale di quell'investimento che per quanto abbiamo detto prima tendenzialmente deve essere un obiettivo di medio e lungo periodo per poi poter a quel punto sfruttare a proprio vantaggio le incertezze cioè andare a magari prendere continuando a usare la metafora del viaggio in nave sappiamo che dobbiamo arrivare in quel porto ma magari faremo delle deviazioni nel tempo quelle deviazioni sono portate da eventi che avvengono sui mercati nel mondo pensiamo appunto all'invasione ucraina dello scorso anno e che magari accedono a dei fenomeni sui quali noi volevamo o non avevamo ancora preso delle posizioni o volevamo investire quindi questa è l'idea secondo me di cercare di sfruttare l'incertezza a proprio vantaggio uso una frase inglese che in questo mondo usiamo fin troppe frasi in inglese ma una che secondo me è molto spesso l'inglese è fantastico perché condensa in poco dei concetti molto più complessi non è il market timing ma è il timing in the market non è la tempistica di ingresso di quando compriamo una cosa ma è per quanto tempo poi la manteniamo come dicevo questo non vuol dire comprare qualcosa e dimenticarselo vuol dire sfruttare o avere l'idea di cosa vogliamo comprare di dove vogliamo arrivare per utilizzare l'incertezza per comprarla visto che volevamo e forse anche il mio ruolo è quello di calare un po' nella situazione di oggi qual è oggi l'incertezza è evidente forse abbiamo meno incertezza oggi di qualche mese fa sicuramente abbiamo diciamo come investitori oggi molte più leve a disposizione la cassetta degli attrezzi degli investitori oggi è molto più piena di utensili rispetto a sicuramente gli ultimi dieci anni perché? perché alcune aree di investimento che per vari motivi sostanzialmente per politiche molto aggressive delle banche centrali ci avevano privato come investitori di tante leve ci avevano messo in un angolo in cui sostanzialmente dovevamo solo fare certi tipi di cose mi riferisco ad esempio al fatto che di fatto ad esempio i mercati obbligazionari quindi la parte del debito dell'acquisto dell'investimento in debito è sostanzialmente tornata a essere una gamba su cui gli investitori possono lavorare e fare le loro allocazioni questo è un momento secondo me abbastanza importante l'incertezza come gioca in questo momento nelle scelte oggi dell'investitore ad esempio nell'errore che probabilmente stiamo facendo complessivamente di chi guarda nel breve periodo a questa incertezza nell'allocare ad esempio a strumenti di estrema liquidità a brevissimo termine piuttosto che pensare a quelle che sono le prospettive di medio e lungo periodo di tante altre cose quindi avrete visto dibattiti su la remunerazione dei conti correnti ad esempio ci sono tanti studenti anche qui in sala oggi solo per ricordare che il conto corrente per definizione non è uno strumento di investimento è uno strumento di gestione dei pagamenti l'investimento è un'altra cosa diverso magari un certificato di deposito un deposito a medio termine quelli iniziano ad essere forme diciamo molto poco rischiose di investimento oggi l'opportunità di allocare ad esempio dei mercati pubblicazionari sono molto più migliori ci sono delle prospettive che non avevamo fino a qualche anno fa ricordandoci come dicevo prima che dobbiamo sfruttare momenti di incertezza sapendo dove vogliamo arrivare al nostro vantaggio come investitori questo è secondo me il punto centrale i numeri dicono che in qualsiasi l'ultimo secolo su dieci anni di investimento che è un orizzonte medio in molti casi è un orizzonte medio corto il 90% di quello che sarà il nostro risultato come investitori dipenderà solo da su cosa abbiamo scommesso più di quello più che cosa abbiamo fatto in quei dieci anni se ci siamo aumentato diminuito allocato su una cosa sull'altra ma se avremmo deciso ad esempio rimanendo sui mercati pubblici per non andare sui mercati privati di allocare una certa parte a un'area geografica rispetto a un'altra spiegherà tra dieci anni il 90% del risultato quindi la gran parte torno al tema utilizziamo l'incertezza per capire se dobbiamo cambiare un po' la direzione della navigazione ma la destinazione deve essere ben chiara grazie perché poi da quello che colgo dalle vostre parole per i mercati finanziari l'incertezza non è una condizione che ogni tanto si verifica cioè adesso quest'anno è incerto quest'anno è più incerto perché le variabili geopolitiche sono più complicate e più evidenti però mi sono preso sono andato a vedere una cosa su hanno fatto un parallelo tra l'andamento dei mercati quindi una curva e mediamente sono dei cicli e lo stato d'animo delle persone vi elenco le parole partendo da una fase di rialzo ottimismo entusiasmo esaltazione euforia preoccupazione negazione pessimismo panico capitolazione disperazione scetticismo speranza sollievo ottimismo entusiasmo se mettete queste parole su una linea di un grafico dell'andamento di un titolo coincidono il punto è quello che dicevano prima è il momento nel quale tu lo fai se hai paura nel momento sbagliato o sei troppo fiducioso nel momento sbagliato il rischio di subire delle perdite può essere può essere elevato torno da Ramondetti su questo diciamo voi di mestiere semplifico gestite denaro e gestite futuro perché le persone vengono da voi immagino ma io ho da investire ma qualcuno non ha un progetto qualcuno non sa che cosa vuole fare di quel denaro qualcuno non sa quando avrà di nuovo bisogno di quel denaro quindi ancora qui entra l'elemento emotività non soltanto l'elemento rende il 5% rende il 2% o rende 0 come stanno cambiando le richieste delle persone che si rivolgono a voi è vero direi che usando un parallelo potremmo dire che il primo incontro con un potenziale cliente con un investitore con chi si rivolge a noi viene dedicato alla redazione di un'anamnesi quindi siamo un po' come come si fa dal medico è un po' come un medico cioè dobbiamo capire quello che ci stanno chiedendo perché gli obiettivi raramente vengono enunciati in modo chiaro alle volte l'obiettivo non è chiaro ancora ma c'è una condizione c'è una condizione familiare c'è una condizione patrimoniale ci sono delle condizioni di flussi positivi o negativi nel patrimonio di queste famiglie gestire patrimoni in generale vuol dire gestire il futuro delle famiglie perché grandi o piccoli che essi siano significano la sicurezza di un ambito familiare questo porta una responsabilità che va al di là del numero stiamo parlando del futuro di una famiglia o addirittura nel caso di grandi patrimoni di futuri plurigenerazionali riuscire a definire in modo concreto cosa significa in lungo termine è forse l'esercizio più complicato che noi svolgiamo perché per in qualche modo in modo ancorché imperfetto poterne parlare bisogna rivolgersi un po' al passato quindi bisogna guardare cosa ha significato per esempio affidarsi a investimenti a rendimento inferiore all'inflazione per periodi di 10-20 anni consecutivi ha significato la disgregazione del valore reale di un patrimonio la interrompo 1000 euro inflazione del 10% in un anno quei 1000 euro sono diventati di fatto 900 senza che tu abbia fatto nulla tu hai perso il 10% è come aver investito su un mercato e aver perso il 10% perché l'inflazione riduce il potere di quel denaro lo saprete tutti ma prego gli economisti la chiamano illusione monetaria perché è quella zona di comfort dove noi vediamo il patrimonio crescere dell'1-2-3% ma in realtà non deflazionandolo non ci rendiamo conto che in termini reali magari c'è stata un'erosione fa parte del nostro mestiere il nostro mestiere è aiutare a spostare il focus da quella situazione di comfort emotivo di breve termine dove essenzialmente investirei solo in depositi o in titoli di stato breve termine perché mi sento fuori dalla volatilità quindi ho una certezza del numero spostare il focus da questa dimensione a una dimensione dove il patrimonio viene ancorato dalle tendenze di crescita che nel mondo ci sono sempre ma questo vuol dire spostarsi sul mondo del capitale azionario e il capitale azionario significa volatilità di breve termine è impossibile conciliare questi due obiettivi la sicurezza di breve termine l'assenza di volatilità di breve termine con la crescita del patrimonio nel lungo termine sono due obiettivi inconciliabili ogni investitore deve in qualche modo capire su una curva quale mix dei due obiettivi vuole raggiungere conosco pochi investitori così razionali da dirmi guarda sono convinto che hai ragione investiremo a 30 anni tutto in capitale di rischio questo non mi è ancora successo anche se nel mondo agrosassone è abbastanza diffuso ma non in Italia dall'altro lato però c'è quello che possiamo chiamare un indice di come dire di sollievo emotivo oltre al quale non si deve andare perché un eccesso di rischio nei propri investimenti può portare a un punto di rottura dove di fronte a un eccesso di volatilità effettivamente si fanno poi delle scelte negative quindi come vendere nel momento sbagliato bisogna come diceva Giuseppe Patara bisogna sapere qual è l'obiettivo del viaggio questo è fondamentale e calibrare tutte le scelte dall'inizio verso quell'obiettivo quella è anche l'immagine del viaggio perché dentro c'è il tempo e le cose delle quali tu hai mi veniva in mente a proposito delle grandi avventure e crack della storia andate a guardare la questione dei tulipani in Olanda che a un certo punto un tulipano valeva più di 4 case ad Amsterdam nel 1600 questo solo per dire che il valore delle cose il valore dei titoli racchiude numeri analisi ma racchiude percezioni torno gli ultimi 2 o 3 premi Nobel per l'economia hanno studiato profondamente i numeri ma hanno studiato profondamente i nostri comportamenti perché appunto l'esempio del 2011 sembrava che l'Italia fosse finita tutti buttavano via i titoli di Stato qualcuno che ha detto no ma l'Italia però ancora non è finita è in fragilità ma ancora non è finita chi ha avuto quella pazienza e quella capacità ha guadagnato così come dopo la crisi della Lehman Brothers quando avete visto quelle immagini dei cartoni delle persone che uscivano dall'edificio con i cartoni ecco dal 2008 in poi c'è stata una fase complicatissima per l'economia reale ma i mercati finanziari poi hanno recuperato parola a lei scolari sul tema lei ha detto alla fine gli italiani ne sanno molto di più mi ha incuriosito quella cosa dell'elemento della fiducia che è una merce molto scarsa di questi tempi si amministra con grande qualche volta si amministra con grande giudizio e qualche volta con troppa superficialità sui mercati invece è una variabile decisiva è una variabile decisiva perché è abbastanza accertato che la partecipazione dei cittadini ai mercati finanziari quindi la trasformazione del risparmio in investimenti utili per la crescita dell'economia dipende in gran parte dalla fiducia che le persone hanno nella stabilità dei mercati finanziari nella regolamentazione nel buon comportamento degli operatori eccetera quindi la fiducia è un po' la benzina di questo motore che è il rapporto tra finanza e economia e gli antichi romani la fides era un elemento costitutivo della società l'elemento della fiducia ai tempi appunto dell'impero romano era un elemento che legava le persone da noi poi tradizionalmente è diventata la stretta di mano la capacità di sapere che la persona con cui ha che fare farà quello che tu ti aspetti e non ti tradirà non farà delle cose diverse da quelle che dice tutto questo non si può sempre scatolare in leggi regolamenti ma dipende proprio anche dal grado di cioè dal modalità di comportamento delle persone alla fine quindi c'è un fatto culturale che riguarda la nostra società che deve cercare di mantenere alti standard di comportamenti cioè le regole sono importantissime ma se noi regoliamo delle persone che non hanno principi le regole non servono a niente quindi serve sia un buon sistema di regole date dalle leggi dai regolamenti che citava l'avvocato ma serve anche il comportamento degli operatori finanziari e anche il comportamento degli investitori dei risparmiatori ci deve essere un patto diciamo tra queste componenti in cui ognuno deve fare il proprio ruolo e non deve tradire la fiducia dell'altro e allora le cose vanno bene si crea questo circolo virtuoso se avvengono invece dei comportamenti riformi avvengono spesso quelle gravi crisi che ricordavate il 2008 il 1987 la grande la grande crisi del 29 dove furono momenti in cui la fiducia è crollata perché poi il sistema finanziario è come il sistema nervoso dell'economia l'economia va con una certa gradualità con l'economia reale la finanza è diciamo portata ad avere comportamenti molto più nervosi no più a movimenti più rapidi e anche a volte poco intellegibili e quindi bisogna che il sistema nervoso sia mantenuto assolutamente tranquillo per fare quel lavoro che deve fare senza essere disturbato ecco c'era tanti anni fa ero stato in una banca inglese NatWest che ora forse non esiste neanche più è stata acquisita e la sala operativa era realizzata come l'inferno di Dante cioè la base era più piccola poi si allargava e al primo livello c'erano gli operatori del mercato a brevissimo termine si saliva e c'erano quelli a medio termine quindi quelli che operavano sui titoli di stato a medio termine in alto quelli che investivano sui titoli a più lungo termine io ho chiesto ma perché allora la digitalizzazione non era così avanzata perché noi vediamo l'emozione perché quelli del primo piano erano quelli che reagivano subito alle variazioni dei tassi di interesse e quelli sopra dovevano vedere quello che stava succedendo perché poi l'emozione da un lato è un rischio dall'altro è la capacità di intuire quello che va fatto e quello che non va fatto è una cosa complicata sui mercati e a proposito di di emozione lei a un certo punto ha usato anche il termine dei valori valore è una parola che possiamo declinare nel senso di creare valore o valore nel senso dei valori che ci portiamo come persone no? Ecco sugli investimenti il concetto di valore non solo redditività ma anche il senso di quello che fai contrariamente a quello che si pensa sta entrando e paradossalmente lo dico con la finanza che è stata considerata a lungo colpevole di tutto insieme alle banche diciamo i due grandi responsabili sugli investimenti verso l'ambiente stanno contribuendo a cambiare questa cultura e così anche in questo caso anche grazie alle regole che forse stanno diventando un po' troppe però probabilmente diciamo il settore economico che contribuisce di più al di fuori di quelli che possono essere leggi regolamenti green deal o transizioni ecologiche decise dai governi il settore che sta in qualche modo spingendo di più verso la transizione ambientale o ecologica è quello della finanza proprio perché proprio perché tutti hanno la regola d'oro di fall of money quindi se gli investimenti si concentrano nelle aree che sono viste come le aree del futuro e quindi le aree per non solo un'energia pulita che è quasi scontato ma anche per un assetto del nostro pianeta migliorato l'esempio più banale riguarda l'acqua l'acqua non rientra nell'energia ma investire nell'acqua e in Italia abbiamo un paese abbiamo un problema grosso come una casa perché a causa di un sciagurato referendum di qualche anno fa non si riesce a investire abbastanza nell'acqua quindi anche qui le emozioni questo è un piccolo detour sulle emozioni e sulle leggi dieci anni fa ci fu uno sciaguratissimo referendum in cui la parola d'ordine era evitare che si privatizzasse l'acqua perché l'acqua è un bene di tutti c'erano sacerdoti che andavano in giro col saio sorella acqua e così via in realtà la legge che venne abolita fu una legge che dava la possibilità di mettersi in gara tra pubblici privati non c'era differenza per cercare di dare un servizio migliore e quindi apriva la concorrenza il bel risultato è che oggi abbiamo un paese d'Italia con il più alto numero di società che gestiscono l'acqua è la più grande dispersione di acqua degli acquedotti del mondo intero proprio perché gli investimenti non si sono fatti però appunto la finanza ha voglia se incide incide proprio e incide non solo grazie alla regolamentazione tipo quella dell'Unione Europea che ho detto io ma anche grazie all'autoregolamentazione quindi i gestori di portafoglio oggi su alcune attività a prescindere da quello che dice la regolamentazione non investono perché ad esempio non riescono a ottenere i fondi penso ai fondi di private equity sono dei fondi che investono in specifiche aziende quindi diverso dal wealth management che è la cosa che fanno i nostri amici ecco se questi fondi di private equity vogliono raccogliere i soldi per investire e vogliono raccogliere ad esempio dalla Banca Europea degli investimenti e così via devono investire in attività cosiddette sostenibili e quindi se vogliono prendere i soldi anche dei privati che investirebbero dovunque e però vogliono dimostrare che riescono ad avere i soldi anche di organismi europei tipo la Banca Europea degli investimenti e beh devono rassegnarsi a investire in attività sostenibili quindi la finanza ha un grande ruolo sia grazie alla regolamentazione sia grazie all'autoregolamentazione poi naturalmente come ogni pendolo a volte ci possono essere delle esagerazioni o ci possono essere delle interpretazioni che sono molto dibattute faccio solo questo esempio e finisco entro i 13 secondi ad esempio c'è un grande dibattito se gli investimenti in quello che si chiama il carbon capture cioè quei macchinari che riescono a catturare l'anidride carbonica del carbone sia una cosa che aiuta o non aiuta la transizione ecologica alcuni dicono sì perché cattura il carbone altri dicono no perché distoglie gli investimenti dal verde qui come è ovvio persone intelligenti l'ha perso in modo diverso ma sul ruolo della finanza positivo mettiamola così su questo probabilmente ormai c'è un consenso generalizzato anche su questo sulla capacità di acchiappare l'anidride carbonica e rimetterla sotto terra che è una delle cose che si sta facendo nei vecchi nelle vecchie dove si prendeva il gas l'Italia è un paese molto avanti con questo tipo di tecnologie però vedete anche sul tema dell'industria della difesa la complessità che ci ha sollevato prima è una cosa giusta o sbagliata si tratta di ragionare sul punto ecco questo sono molto contento di questa conversazione perché le cose complicate diffidate di quelli che vi raccontano le cose in maniera troppo troppo semplice guardate che le cose sono un po' più complesse con un po' di attenzione si possono cogliere prego no no solo una battuta per dire è importante questo tema dei valori è importante la trasparenza cioè chi fa finanza deve dire al pubblico degli investitori se investe in che settore in che e poi sono gli investitori che decidono se preferiscono investire nelle armi o meno cioè i valori sono degli investitori i gestori devono dare trasparenza in quello dove vanno a finire i tuoi soldi grazie lei di mestiere prende decisioni tutte le persone che sono qui e tutti tutti prendiamo decisioni chi per mestiere e chi per vita e per vita e mestiere adesso con questa situazione così spieghiamo anche ai ragazzi e alle ragazze quali sono i ragionamenti che si fanno lei prima ci ha detto ora ci sono le obbligazioni a quali ragionamenti sta facendo le scelte secondo me bisogna fare così e b qual è un consiglio che darebbe ai ragazzi e alle ragazze che parto sempre dall'idea che hanno pensato per tutto il tempo ci stanno parlando di patrimoni ma io patrimoni non ce ne ho che invece quali ragionamenti potrebbero fare prego parto dicendo che non è non è mai troppo presto per iniziare ovviamente a investire e risparmiare è evidente che l'orizzonte temporale diventa a quel punto il fattore totalmente a favore di chi inizia molto presto a investire i numeri e la storia ci dicono che l'investimento azionario tipicamente che sono aziende pubbliche o aziende private tramite il private equity che è stato citato prima sono quelle vie che nel medio lungo periodo veramente permettono ad esempio il mantenimento almeno del potere d'acquisto del recupero dell'inflazione che citavate prima che è un tema che per molti anni ci siamo lasciati alle spalle l'inflazione era bassa le banche centrali lottavano per riportarci a un livello di inflazione normale adesso invece sarà un tema di nuovo sul tavolo l'erosione del potere d'acquisto se risparmio oggi qualcosa domani deve valere almeno in termini di beni che possa acquistare quella stessa quantità bene questo mi porta a dire che ovviamente una parte determinante anche nei periodi di più incertezza anche nei periodi di più rischio o spesso in quei periodi la parte di mercati azionari di acquisto di singole aziende negli investimenti deve essere determinante banalmente perché un'azienda che esista e sulla quale noi come investitori lo chiamo del capitale per sopravvivere deve essere in grado di ribaltare il costo dell'inflazione quindi il suo costo ad esempio di più alto di produzione delle materie prime che utilizza per produrre i beni che poi vende deve essere in grado di ribaltarlo sui prezzi e quindi fare utili nonostante la salita dei propri costi di investimento quindi prima cosa è una quota relativamente alta di inflazione i modelli ci dicono che più si è giovani più bisogna investire in azioni più si è vicini al periodo in cui invece si spenderanno quei soldi si dovranno spendere quei soldi magari appunto pensionamento in quella fase più bisogna accorciare i orizzonti di investimento andare sulle obbligazioni che citavo prima nell'immediato oggi c'è un momento particolare perché c'è stato un brusco rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale negli ultimi 18 mesi terminati pensiamo questa estate siamo ancora in uno scenario soprattutto in euro in cui investire a breve termine rende nominalmente qualcosa in più che investire a medio o lungo per obbligazioni che scadono 3, 4, 5 anni rendono qualcosa meno della remunerazione immediata ma questi sono tendenzialmente episodi che si riducono in un lasso temporale abbastanza stretto perché tra poco prima o poi a un certo punto vedremo sarà un po' il tema del 2024 le banche centrali dovranno iniziare a tornare a dare respiro all'economia scendere sconfitta all'inflazione far tornare i tassi di interesse bassi a quel punto bisognerà essere già investiti sulle obbligazioni un po' più a lungo periodo quindi in questo momento quello che noi stiamo facendo stiamo guardando esattamente questo allungare un po' l'orizzonte temporale di scadenza di queste obbligazioni per bloccare dei rendimenti che sono in questo momento abbastanza attrattivi che generano il reddito è importante e questo vale in generale ma vale anche soprattutto in questi momenti di mercato e quando c'è più incertezza bisogna cercare di essere più ottimisti quando mediamente c'è pessimismo sul mercato e viceversa questo è il messaggio che i più grandi investitori viventi per fortuna come Warren Buffett ci hanno lasciato nella loro pratica dell'ultimo mezzo secolo bisogna essere veramente pessimisti iniziare a farsi domande chiedere al proprio consulente informarsi quando c'è la promessa del rendimento senza rischio la promessa del in questo momento può solo salire il grafico che ci dice beh se è arrivato qui può solo salire ancora quello è il momento in cui essere scettici fare domande e informarsi nel momento in cui tutti sono pessimisti bisogna avere la freddezza e la lucidità di invece diventare ottimisti per se stessi pensando che poi negli investimenti come in tante altre cose c'è una legge fantastica che è il ritorno alla media mediamente tutti i fenomeni umani o non umani oscillano tra gli estremi questa è una forza fortissima per chi fa investimenti grazie e poi essere ottimisti quando gli altri sono molto pessimisti vale sui mercati finanziari ma forse potrebbe valere in generale quando gli altri pensano che nulla si possa fare è il senso anche di queste giornate ragionare sui cambiamenti profondi si è ragionato di intelligenza artificiale di investimenti di salute però ragionare in modo diverso dico un'ultima cosa in borsa c'è sempre un momento in cui due persone ragionano in modo opposto qualcuno vende e qualcuno compra sono due ragionamenti uguali e contrari perciò esiste la borsa e questo fa pensare che appunto i mercati avranno sempre persone con punti di vista diverso io ringrazio Paolo Ramondetti Giuseppe Patara Alessandro De Nicola e Massimo Scolari per tutti gli spunti che ci hanno dato e voi per averci ascoltato e buon proseguimento grazie grazie molto si può fare ragionando sui cambiamenti grazie grazie